Salve a tutti e benvenuti. Oggi siamo in collegamento col dottor Francesco Di Filippo, psicologo e docente che è stato anche ricercatore in sanità pubblica. Oggi vogliamo parlare di coronavirus e psicologia. Siamo tutti chiusi in casa per paura del contagio e vogliamo porre delle domande al dottore in riferimento a questa grande emergenza. La prima è questa. In questo periodo di pandemia da coronavirus forse c'è anche un'emergenza psicologica, cioè il rischio che le persone cadano nella paura. Dottore, le volevamo chiedere come si può affrontare la paura? Allora, salve a tutti. Bene, la paura, prima forse è bene descrivere cosa si intende per paura. Perché la paura è un'emozione e come tale è qualcosa che va vissuta, qualcosa con cui dobbiamo sempre confrontarci nella vita. Prima di entrare nello specifico della paura del contagio da coronavirus, che è abbastanza attuale, come diceva lei, come paura, devo dire che la paura è un'emozione primaria. Cosa si intende per emozione primaria? Cioè il fatto che la paura è un'emozione biologica. Cioè gli studi che hanno fatto gli psicologi del passato ci hanno subito fatto capire che l'emozione della paura riguarda qualsiasi essere umano, al di là della cultura e delle etnie di appartenenza. Quindi la paura è un qualcosa, ripeto, che non si può evitare. Iniziamo col dire questo. Cioè avere a che fare con la paura è come avere a che fare con un ospite indesiderato in casa. Voglio dire, se noi abbiamo un ospite in casa indesiderato non possiamo sfuggirne più di tanto. Prima o poi ce lo ritroveremo sempre tra i piedi. Quindi il mio consiglio è inizialmente quello di confrontarsi con questa paura, cercare di integrarla in noi. In quanto, quando noi parliamo soprattutto di paura da coronavirus, quindi paura di questo contagio, è fondamentale riuscire a gestirla questa emozione, a integrarla in noi stessi, non a eliminarla o a metterla da parte. Tanto questo meccanismo sarebbe impossibile. Voglio dire, se la paura la si cerca di mettere da parte, metterci un coperchio sopra, c'è il rischio che questa paura poi riemerga sotto altre forme, potrebbe riemergere con disturbi psicosomatici, con nervosismo, con carico di ansia e con problemi nei rapporti con gli altri. La cosa che voglio sottolinearle però è il rapporto tra la paura e l'angoscia. Perché io più che di paura in questo periodo di contagio e di emergenza, di pandemia da coronavirus, parlerei soprattutto di rischio di uno sviluppo di eccessiva angoscia delle persone e l'angoscia è una cosa ben diversa. Mi faccio dire che l'angoscia, mentre la paura è come dire specifica, la paura si riferisce magari a un elemento o oggetto esterno o interno che sia. Faccio un esempio, se abbiamo paura di una persona noi cercheremo di evitare quella persona, di evitarla, di non entrare in contatto con quella persona e in questo modo già abbiamo un modo per gestirla, tale paura. Ci allontaniamo, frequentiamo altri posti e via. Oppure se abbiamo paura di una situazione, magari quella situazione prima di affrontarla la evitiamo, poi prima o poi dobbiamo affrontarla anche in quel caso. Però come dire, la paura è relativa a un oggetto esterno chiaro, spesso è così. Per esempio la paura o la fobia relativa ai danni è specifica a quell'oggetto. Quindi se evito le situazioni dove possono esserci dei danni, oppure se ne incontro uno per strada, cambio strada e allora ecco che così riesco a contenere questa paura. L'angoscia è qualcosa di diverso, perché quando noi siamo di fronte all'angoscia siamo di fronte a una paura di un nemico invisibile che potrebbe essere da tutte le parti e da nessuna parte. I virus all'essere umano fanno questo tipo di paura da sempre. Cioè è una paura relativa, quindi l'angoscia è qualcosa in più della paura, perché è la paura che il nemico ci possa attaccare da qualsiasi parte. Sa, noi, mi lascio dire che ci siamo forse illusi negli ultimi anni di avere sconfitto le malattie infettive, grazie agli antibiotici, dalla scoperta della penicillina in poi, abbiamo sviluppato una certa sicurezza, penso a tutte le campagne contro i vaccini, all'idea che le malattie infettive non possano più rappresentare un pericolo per noi. Ma questa è una rappresentazione alquanto problematica e non corretta, nel senso che la paura che sta emergendo ora nasce anche da una sorta di sicurezza che avevamo rispetto a questo tipo di patologie, ma ripeto, era una sicurezza fondata sul nulla. L'angoscia è più complessa, l'angoscia è paura di qualcosa che sembra inevitabile e sembra non controllabile. E quindi, dottore, in riferimento all'angoscia, ci può dire come si può combattere l'angoscia? Ecco, mentre, ripeto, una paura che ha a che fare con un oggetto esterno, anche quella ha bisogno di un'analisi anche psicologica, per carità, però ci sono varie strategie, anche pratiche, che gli esseri umani possono mettere in atto. Mentre quando parliamo in realtà di angoscia, e qui è necessario un confronto con se stessi più interiore, voglio dire, l'angoscia la si può, come dire, gestire e integrare nella sua personalità se riusciamo a togliergli quel carico di eccessiva paura che porta con sé. Insomma, l'angoscia o l'attacco di panico o l'attacco d'ansia, siamo in un settore in cui noi andiamo al di là della realtà. Quindi la strategia che io di base consiglio è quello di tenere sempre bene in mente, quindi tra noi e noi, nel senso dentro di noi, nella nostra interiorità, tenere sempre bene in mente questa differenza tra piano di realtà e piano delle fantasie, dell'immaginazione. Cioè il piano della realtà è di una situazione sicuramente non facile quella che stiamo vivendo, ma per non cadere nell'angoscia dobbiamo, come dire, capire che spesso i nostri pensieri si accavallano uno dietro l'altro, noi diamo spago, diamo retta a tali pensieri e così facendo creiamo l'angoscia, quindi questa paura eccessiva. Io dico sempre alle persone, insomma, di lavorare con se stesse e contrapporle ai pensieri ansiogeni e ai pensieri, che chiamo pensieri immondizia, angoscianti, altri tipi di pensieri, quelli anche più realistici, quelli che, come dire, anche se contrari, hanno probabilmente più senso. Per esempio, in questo ultimo periodo le campagne pubblicitarie, televisive e attraverso tutti i media ci stanno spiegando quali sono i comportamenti corretti da prendere, quali sono le precauzioni da mettere in atto per difenderci dal contagio da coronavirus. Ecco, anche ragionare su questi pensieri nel momento in cui magari in testa ci arriva l'idea che siamo a rischio, che potremmo essere contagiati, potrebbe essere già una semplice strategia, cioè rimanere sempre coi piedi ben piantati per terra, piano di realtà. Non so se mi sente, ma volevo dirle questo. Sì, dottore, inoltre le volevamo chiedere e farle una domanda che ci stanno facendo un po' tutti. In questo periodo di grossa emergenza siamo tutti costretti a restare a casa. Non c'è il rischio che i rapporti personali e quindi anche intimi si possano deteriorare? No, mi scusi, mi sorgeva un sorriso spontaneo perché in effetti questa è una tematica che tra amici, colleghi, pazienti, insomma, sento venire fuori spesso in quest'ultimo periodo, cioè il fatto di essere costretti, perché noi in questa fase della vita, in questa fase direi storica per l'Italia, in negativo purtroppo, siamo costretti a casa. Le costruzioni all'essere umano hanno sempre fatto male, ovviamente, ma in questo caso c'è un paradosso perché siamo costretti a stare in casa insieme agli effetti più cari. Però questa da una situazione piacevole o utile potrebbe trasformarsi anche in una situazione negativa per il nostro benessere psicologico, per la salute mentale, insomma, intendo dire. E quindi sì, sono d'accordo sul fatto che è una situazione da gestire bene perché potrebbe davvero diventare invece ingestibile, cioè potrebbe creare molti problemi di relazioni, di rapporti. E quindi lei ci sta dicendo che c'è una possibile soluzione o strategia per convivere bene a casa con il marito, la moglie e con i figli? Sì, sì, di strategie ce ne sono tante, però intanto, ripeto, voglio iniziare per sottolineare il fatto che questo non è un problema, anzi è un'opportunità. Cioè abbiamo l'opportunità di stare a casa, certo abbiamo perso la nostra libertà, perdiamo le nostre libertà per un periodo limitato e che ha un senso, ricordiamoci sempre il piano di realtà, il senso è quello di superare questa emergenza, questa pandemia, però è un'opportunità il fatto di stare vicini ai propri figli, più vicini ai propri figli, di stare a maggiore contatto e in rapporto con la propria partner, cioè è una grande opportunità. Diventa un problema spesso e può diventare un problema, è vero, perché? Perché la nostra società occidentale contemporanea è organizzata, si è organizzata da un bel po' di anni in un certo modo, cioè noi siamo abituati che passiamo parte della giornata, quindi come è organizzata la nostra quotidianità, voglio dire, parte della giornata si passa al lavoro, si hanno i rapporti con i colleghi, si hanno impegni lavorativi, parte della giornata si passa in casa e quindi ognuno ha le sue attività e poi c'è il sabato e la domenica, insomma ci avevamo un'organizzazione della settimana che adesso è andata in frantumi. Io sento che ci dicono da tutte le parti che nulla sarà come prima, che dobbiamo imparare a organizzarci secondo una nuova idea di socialità, di rapporti, però questa è una cosa che per gli esseri umani non è facile, non è che in 4 e 4 8 noi siamo in grado di cambiare il nostro stile di vita e le nostre relazioni, quindi i problemi nascono e sorgono laddove ci troviamo magari a contatto continuo, quotidiano con problematiche che eravamo riusciti ad accantonare perché distratti dal lavoro, distratti da mille impegni. Qual è la cosa che io consiglio? La strategia che io consiglio è quella di non perdere il ritmo delle attività che abbiamo fatto fino ad ora, cioè non perdere il ritmo nel senso che manteniamo alcuni orari, manteniamo uno stile di vita in cui siamo attivi, in cui pur essendo fermi a casa continuiamo a fare le nostre attività, curiamo certi hobby, ma ci confrontiamo anche con le persone che amiamo su alcuni conflitti emersi, insomma contenimento, ma continuare con un ritmo ben organizzato le attività che abbiamo sempre fatto, certo in un contesto diverso. Questa potrebbe essere una buona strategia, allora davvero possiamo trasformare un problema in un'opportunità e il fatto di trasformare un problema in un'opportunità è la base di qualsiasi percorso terapeutico e psicologico, insomma è quel confronto con l'ombra che in questo caso è una cosa manifesta, sociale, reale, confrontarci con questo problema può anche rinforzarci. Dico un'ultima cosa che è sottointesa a quello che sto dicendo, è che abbiamo la resilienza, cioè la resilienza che cos'è? È la nostra capacità di sviluppare adattamento a qualsiasi situazione della vita, quindi una situazione complessa ci può permettere di tirar fuori risorse che abbiamo dentro di noi psicologiche ed entrando in contatto con tali risorse e queste poi possono essere utilizzate anche quando riprenderemo la nostra cosiddetta vita normale, possono essere utilizzate anche davanti ad altri problemi, quindi la situazione ripeto è un'opportunità, primo perché ci mette a contatto più stretto con le persone cui vogliamo bene e secondo perché ci può rinforzare. Io le voglio porre l'ultima domanda dottore che esce un po' fuori dai canoni di questo periodo, secondo lei tutto questo e si sa che quando c'è un'emergenza c'è anche un cambiamento, tutto questo porterà a qualcosa di positivo? Ci sarà un cambiamento radicale? Ma come le dicevo prima, non è facile cambiare alcune abitudini, alcuni stili di vita, poi parliamo di stili di vita e di relazione, non si cambiano così rapidamente. Certo sarà, è come subire un trauma per tutto il nostro mondo moderno, un trauma che sicuramente lascerà i segni. È inutile sforzarsi di prevedere cosa cambierà, però è chiaro che cambieranno molte cose, ma io prevedo una grande voglia di ritorno alla normalità e quindi quando tutto questo sarà finito, secondo me la memoria del mondo che è stato, in termini di unione tra persone, di feste e di realtà, secondo me tornerà tale e quale prima, perché l'essere umano è di base un animale relazionale, abbiamo bisogno di relazioni anche strette e quindi torneremo alla vita che abbiamo sempre avuto. Dottor Di Filippo, noi la ringraziamo e